Wow! Che meraviglia! Caspita ragazzi, anche il porto è straordinario! Wow! Amazing! Che emozione incontrare i Pirati di Cappella di Paglia! Piacere di conoscervi! Salve, mademoiselle. Mi presento, sono Sanji, il cuoco di bordo. Il fatto che ci siamo incontrati qui è un segno del destino! No, Sanji, mi fai arrossire! Sono tanto felice di incontrarti! Sono l'accompagnatrice esclusiva segnata ai VIP. Il mio nome è Baccarat. Scusa, mi dissi come fai a sapere noi chi siamo? Oh, ma perché voi li siete conosciuti? Tutti i membri potenti della Marina Militare e i Pirati più famosi sono annotati su questa lista. Ora ve la mostro, guardate! Avete visto? Oh! Sapevo che eravamo famosi, ma non fino a questo punto! È così! Se avete bisogno di qualche cosa, rivolgitevi pure a me. Ora, se volete seguirmi... Oh! Tarda! Tarda! Che roba! È una meraviglia! Ma è un'automobile? Sì, questa è la tarda auto, il mezzo di trasporto usato per spostarsi qui a Gran Tesoro. E sono queste tartarughe a farla muovere. Esatto! Si tratta di otto rare tartarughe tutte muscoli. Tarta! 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 Tartare! 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 Tartare!